Un saluto dalla Pagania Automobile a tutto il pubblico di Garage TV e La Conquista. La Torre Eiffel è arrivato a Francia, a la Torre Eiffel. Abbiamo stato in un altro show, ma questo è il più importante che abbiamo stato insieme. Per il secondo anno consecutivo, insieme, qui all'inizio è tutto. Il primo viaggio che abbiamo fatto è qui in Ginebra. Oggi ci troviamo con La Conquista in Tono Beach International Speedway per un evento molto speciale, Exotic Celebration Car Show. Al prossimo viaggio很多, Nor ET. apure, non abbiamo bisogno di tutto il giorno, abbiamo bisogno di andare a lavorare che dice Onda Odyssey? stiamo facendo il nuovo episodio della conquista del Parque Nacional dei Volcani qui in Hawaii Sanky e Al, stai lavorando qui io mi chiedo a descansare un po' aca in la piletta stiamo in Argentina, a molti chilometro da dove stiamo parando ora in questo momento e a che veniste aca? No, venimos a mettere il auto i treze carri sono atti che vanno a mangiare questa mattina e per la mattina abbiamo treze delantra GTS che vanno a stare mangiando e vanno a avere una ruta molto bellissima pura arena, dentro di poco va a allochecer e non se che vuoi fare a ver, chuaio, chuaio, quien sarà? Pablito! Dopo di un poco più di 5 ore di via, arriviamo a Las Vegas Pabllo, ci siamo arrivati da un anno più in il Cielo Maior Comenziamo un programma super speciale di La Conquista, justamente in la costa oeste de los Estados Unidos. Vamo a vedere le carriere, le avventure e il paese hermoso di California. Donde acabiamo di terminare il nostro Super Tour. Estamos terminando di gravare qui nel taller di Jay Leno. Que incredibile, no? Si, per i sui ombrosi tu lo vas a vedere, la conexione è alucinante. Sì, è fin del anno e noi seguiamo viajando. Donde siamo oggi? Siamo in Detroit, al lato di Canada. Oltre a Winsu. Lo miglior di Detroit è andare a Canada, però non siamo. La Conquista è una parola del carriere, e la prima faccia della regione, diciamo che siamo in un rato. Siamo in Italia, e questa parte è stata una strada di California e questa parte è stata una strada massa, è stata una strada di ferro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.